Si vota domenica 12 gennaio per le primarie che stabiliranno chi sarà il candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centro-sinistra alle elezioni regionali della prossima primavera. Si sfideranno in quattro il governatore uscente Michele Emiliano, il consigliere regionale PD Fabiano Amati, l'ex europarlamentare del PD Elena Gentile ed il sociologo Leonardo Palmisano. Si è svolto a Molfetta uno degli ultimi incontri organizzati dal centro-sinistra per invitare gli elettori al voto. Queste primarie del 12 gennaio confermeranno la volontà di un popolo, quello pugliese, di scegliere i propri candidati senza cedere questo diritto acquisito già da 20 anni a segreterie di partito o peggio lobby o autopromozioni. Questo processo ovviamente prevede l'impegno di migliaia di persone di allestire 280 seggi per votare. È una cosa che può fare solo una grande organizzazione di persone che gratuitamente si dedicano alla politica come passione e come volontariato. Un momento di partecipazione e democrazia al quale anche il centro-sinistra di Molfetta intende dare il suo contributo, ha detto il sindaco Tommaso Minervini. Sono in tutto 270 i seggi allestiti in Puglia, aperti dalle 8 alle 20. Per votare è sufficiente presentare un documento di riconoscimento e pagare il contributo di un euro. A Molfetta, come a Barletta, Biceglie, Canosa, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia e Spinazzola, i seggi si troveranno nelle sedi locali del Partito Democratico. Ad Andrea si vota al Chiostro di San Francesco, a Trani all'Auditorium di San Luigi, a Margherita di Savoia all'Ex Palazzo di Città e a Trinitapoli all'Auditorium dell'Assunta.